Io ho avuto sempre un po' l'impressione che lo stesso Petrassi sottovalutasse un po' Ennio, che non avesse sufficiente interesse a questa persona. Finalmente esaurita questa storia delle danze, mi spiegò il ricercare e mi commissionò un ricercare. Quella volta fu il momento dove io non sbagliai più. Quindi lui mi dava grande soddisfazione come maestro. Fu un contrapunto a quattro parti, cinque parti. Era la forma che aveva preceduto la fuga molto interessante di cui Fresco Baldi è stato un caposcuola. Lui un secolo prima di Bach faceva degli accenni di contrapunto di due minuti insieme. I famosi dieci anni con Petrassi sono quelli in cui il maestro è stato nutrito a pane e palestrina, pane e monteverdi, per cui il contrapunto lo conosce come nessuno al mondo. Grazie a tutti.